Presidente Fabio Delprete, l'ultimo a parlare perché il comandante di una nave che deve parlare alla fine al tipice fischio finale, giusta e legittima l'esultanza, la festa tre punti importanti per la Corsa Salvezza Sì, buonasera a tutti, è stata una bella partita molto combattuta sono stati tre punti fondamentali, ha fatto un bel gol il nostro giovane ragazzo Denis Sarciello abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra, il Casagiove che comunque è una squadra ben messa in campo e faccio i complimenti, è un in bocca al lupo e allora ci voleva questa vittoria dopo il passo falso che abbiamo fatto sabato scorso insomma, demeritatamente, comunque va bene così, proseguiamo sull'onda per arrivare quanto prima alla salvezza